Sono Mella tra due motivatori di questo pareggio Questo pareggio 1 a 1 con i Panampakuma Allora per voi Furius, tante riassenze, questo turnover per la sfida di lunedì Non possiamo venire comunque Comunque lunedì non ci può, perfetto Allora vogliamo raccontare un po' questa partita Vincenzo Enzo l'hanno pagato, ci hanno comprato qualche casa, c'è due rigori, due munizioni dal limite A me il secondo rigore si è uscito più o meno al centrocampo per farlo Non è che tanto si può Non è che tanto si può Non lo so Mangoni sempre a gridare in mezzo al campo, ci vomitava Mi vomitava, mi motivava Mi vomitava Allora un pareggio, un punto buono, un punto precioso Un punto precioso Forza Inter E noi Roma Forza Roma Quindi un punto conquistato Sì, va bene La guerra che hanno fatto Hanno perso Allora un punto precioso Allora un punto precioso Allora un punto precioso